Ma sentila. Dove avrai imparato a dire cose del genere? Chiedo scusa, c'è qualcuno? Avrei bisogno di riparare questo vestito. Il più in fretta possibile. Ma certo. Non l'ho sentita entrare. Eccola. Jor Briar, 27 anni. Ha un fratello molto più giovane di lei. Mi scusi, è da quando sono qui che mi sta fissando. Posso fare qualcosa per lei? Che cosa? Significa che il mio aspetto fisico le ha fatto una buona impressione, è così. Papà, ho scoperto quanto sono lunga. Chi è? Un'altra cliente, tesoro. Ho sentito dire che alcune mogli hanno ammazzato chi ci ha provato. Ma nel mio caso le ucciderei prima io. Devo comportarmi in modo più normale. Un sicario! Spia! Sicario! Che... Che emozione! La...